Perché siamo all'obitorio? Per trovare prove valide. Oh no. C'è puzza di yogurt. Sentite qua, frattura delle vertebre cervicali 5, 6 e 7. È un omicidio e c'è qualcuno che lo copre. Oh merda. Vieni dottor Strana More, io te ne ho. Oh, cavolo. Controlla se ha punture sul perineo. Devo controllare il perineo. Non fare il bambino, alzagli lo scroto. Io non gli toccherò lo scroto. Tiragli sulle palle e guarda se c'è qualcosa di strano. Io non... Cazzo. Oh mio Dio. È un perineo, è un perineo. Mi anche hai guardato. Oh mio Dio. Cavolo, c'è una scatola intera di guanti che era lì da sempre. E non mi hai detto niente. Via. Procciato. Ci sono... Dimmi cosa vedi. Peli. Un sacco di peli. Lui non si depilava. Va più a fondo, tira più sulle palle. E avvicinati. Che tausia. Non lo so. C'è qualcosa di grosso, qualcosa... Oh cavolo, è un buco. È il suo buco del culo. Sorridi. Bel lavoro, dottore. Le posto subito. Tu non posti niente. Internet è per sempre. È solo un sollevamento di pa... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seguore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.